Il crono programma è stato delineato. Entro il 31 ottobre è prevista la consegna dei lavori. All'inizio del 2015 cominceranno invece a operare i primi ricercatori, mentre alla fine del prossimo anno potrebbero essere curati i primi pazienti. Nel cantiere del centro di ricerca delle cellule staminali dell'ospedale Casa Solievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo si lavora a pieno regime. La struttura, che sarà l'avanguardia in Europa sul versante diagnostico e terapeutico, sorge su quattro livelli, che ospiteranno la chirurgia sperimentale con sala operatoria, laboratori di microbiologia, la Cell Factory, in cui saranno prodotte cellule staminali per il trapianto nei pazienti con patologie neurodegenerative oncologiche. Quindi patologie dell'inmecchiamento ma anche e soprattutto patologie neurodegenerative quali per esempio la sclerosi multipla. Intanto procede la sperimentazione dell'equip di Casa Solievo dell'utilizzo nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica delle cellule staminali derivanti da feti abortiti spontaneamente. L'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del Farmaco hanno autorizzato i trapianti sugli ultimi tre dei 15 malati seguiti da due anni in questa prima fase. L'impianto delle cellule avviene all'ospedale di Terni in cui operano gli specialisti di Casa Solievo in attesa del completamento del nuovo centro di ricerca nella città di Sampio. La sperimentazione procede positivamente senza problemi imputabili alla procedura chirurgica o alle cellule trapiantate. La fase successiva, la fase 2, sarà finalizzata a testare gli effetti neurologici del trapianto e sarà sicuramente aperta ad un numero maggiore di pazienti.